Il Senato ha approvato oggi con 140 voti a favore e 108 contrari il decreto sulle quote latte. Palazzo Madama ha accolto la richiesta della Ragioneria Generale dello Stato che chiedeva la rinuncia dei contenziosi da parte degli splaffonatori delle quote per poter avere accesso alla rateizzazione consentita dal decreto. E' stato così raccolto l'appello delle organizzazioni agricole che nei giorni scorsi avevano protestato ad Arcore. Bravo Zaia, è un decreto il suo che ha trovato il giusto equilibrio tra gli interessi dei Cobas e quelli delle altre organizzazioni agricole, ha dichiarato oggi alla Camera il Ministro delle Riforme Umberto Bossi. I Cobas dovranno rinunciare al contenzioso ma otterranno un bel numero di quote latte, ha dichiarato ancora il leader del Carroccio. Abbiamo dato un colpo al cerchio ed uno alla botte.